Buonasera, è un po' tardi lo so e mi scuso ho avuto dei contrattempi quest'oggi, però fino al momento in cui vi sto parlando, sono le 23 e 25 mentre sto registrando questo video, Pogba non ha ancora richiesto le controanalisi, il termine delle 72 ore scade domani sera, se non l'ha ancora fatto o ci stanno pensando ancora oppure hanno già deciso di non farlo, poi naturalmente verrà smentito e domani verrà presentata la richiesta di controanalisi. Perché potrebbero decidere di non fare ricorso alle controanalisi? Semplicemente perché quella che è stata un'indiscrezione, ossia l'assunzione di questo integratore, potrebbe essere diventata a questo punto notizia, cioè in sostanza lui potrebbe aver effettivamente ammesso sia alla Juve che agli organi inquirenti il fatto di aver preso questo integratore, il fatto che questo integratore contenesse testosterone e il fatto che lui non sapesse che contenesse testosterone. In questi casi quindi se hai già risultato positivo, sai cosa hai preso, hai visto poi cosa hai preso e conteneva quella sostanza, 2 più 2 uguale 4, in teoria se lui non ha ancora presentato ricorso o meglio non ha ancora richiesto, scusatemi, le controanalisi, probabilmente perché ritiene inutile far svolgere le controanalisi. A questo punto è un'implicità ammissione di aver assunto questa sostanza nelle modalità che lui intende illustrare, ossia non per dono, non per ottenere un miglioramento della prestazione, una guarigione o meglio un ampiamento della massa muscolare eccetera, ma semplicemente perché pensava di assumere delle sostanze naturali, mentre invece non si era accorto che la confezione conteneva testosterone. Ora è chiaro che lui si è, se così è la realtà, si è fidato di questo suo amico medico a Miami, lui infatti aveva fatto una pre-season a Miami, anche perché negli Stati Uniti c'è una normativa diversa, per cui eventualmente il testosterone credo sia a questo punto ammesso per gli sportivi, evidentemente il medico suo non conosceva la normativa italiana, il suo medico, il suo amico di Miami non conosceva la normativa italiana, altrimenti è chiaro che gli avrebbero probabilmente detto di consultare i medici della Juventus, la leggerezza dove sta? Proprio qua, nel fatto che lui non abbia consultato i medici della Juventus, questa è la grande leggerezza che ha commesso. Ecco, tutti commettiamo delle leggerezze, tutti commettiamo degli errori, nel suo caso è chiaro che è un errore che va a pesare tantissimo, perché? Perché si arriverà comunque ad una squalifica più lieve ovviamente, o meno grave, ecco se vogliamo dirla tutta, rispetto al dolo, cioè all'intenzionalità dell'assunzione di testosterone o comunque di sostanza dopante, laddove è prevista appunto la pena massima di 4 anni, qui la pena massima è di 2, poi bisogna vedere ovviamente se saranno 6 mesi, 8 mesi, 15 mesi, 2 anni, quello che lo deciderà naturalmente il Tribunale Antidocchi. Quello che ha già deciso la Juve mi sembra di capire abbastanza chiaramente è che risolverà il contratto con il giocatore, o comunque ci sono forti indicazioni in questo senso, perché? Perché ce lo siamo detto anche oggi, insomma, continuare ad investire quanto già, dopo già che hai perso diversi soldi, continuare ad investire su un giocatore che non ti garantisce l'integrità fisica al 100%, nemmeno per i prossimi 3 anni, perché parliamoci chiaro, questo è il secondo anno ma è appena iniziato, quindi Pogba lo devi esaminare sulla distanza di 3 anni, sulla distanza temporale di 3 anni, devi considerare sulla distanza temporale di 3 anni. Ecco, il primo anno è andato, il secondo ha cominciato così un po' scricchiolando, però forse avrebbe recuperato per la partita contro la Lazio di sabato, però non c'è certezza sul fatto che potesse tornare ad essere il giocatore efficiente anche per continuità come lo era un tempo. Quindi hai già perso lì, è normale che facendo due conti alla mano, lui grazie al decreto crescita veniva a costare sui 12 milioni di lordi l'anno, mettiamoci più o meno 12 adesso, anche se la ragione è già iniziata, 12 e 12, 12 e 24 sono 36 milioni di lordi più o meno, che l'aiuto andrebbe a risparmiare e ragazzi non è una cifra bassa, è una cifra pesante specialmente alla luce del bilancio della Juventus, alla luce del fatto che la Juventus non ha introiti da Champions League, quindi da Europa League o la Conference nemmeno li considero perché sarebbero stati irrisori a confronto della Champions League che peraltro la Juve aveva conquistato sul campo perché adesso che si avvicinano le coppie io continuo a sentire sfottò, mi arrivano eccetera, sì ci stava sfottò però la Juve aveva raggiunta la qualificazione che non si è qualificata per la Champions, si è qualificata, aveva tutto il diritto di partecipare alla Champions, le è stato tolto, adesso non avventriamoci troppo perché sennò si entra in polemiche, ma ogni tanto va ricordato quello che sta succedendo tipo l'avvocato Grassani che difende il Bologna per Ossolini e quindi di fatto difende la Juve ammettendo che non c'è nessuna problematica in quell'operazione quando aveva poco prima, fino a pochi giorni prima sentenziava sul fatto che la Juve andasse condannata per il sistema su norme che non esistono, lasciatemelo dire che questa è veramente una grossa incoerenza e chiudiamola qua. Il discorso del bilancio diventa importante nel momento in cui, non so se l'avete letto, comunque praticamente ad oggi il bilancio della Juve è sempre in rosso, ma le perdite sono state dimezzate, poi chiaro ci vorrà una pronuncia del consiglio di amministrazione in tutto e per tutto, però l'anno scorso di questi tempi le perdite erano di circa 239 milioni e non era ancora scoppiato quel casino, 239 milioni, adesso le perdite ammontano a 115 milioni, milioni più, milioni meno, se quelli di più o quelli di meno vogliono andarvi a me, sono contentissimo, magari divido anche con qualcuno di voi e non c'è problema, però adesso al di là delle battute. Sicuramente la situazione è migliorata, al di là del fatto che non è vero che lui ha speso solo 13 milioni sulla campagna di rafforzamento, ma ne ha messi più di 100 considerando tutte le operazioni pregresse, Locatelli devi cominciare a pagarlo, Chiesa c'è la rata, Glaubis c'è la rata, Brenner c'è la rata, Ken c'è la rata, cinque giocatori per cui ha dovuto tirare fuori rata e per un ammontare, compreso Ua, di circa 110 milioni di spesa, quindi attenzione. Leggo, leggo che la holding di casa Agnelli, Elca Agnelli, ha un patrimonio di 2,2 miliardi che è floridissima e che la Juve incide per l'1,4 per cento sulla cassaforte di famiglia. Certo che viene da dire, ma allora perché non intervengono, perché non fanno qualcosa, perché non risanono i conti, potrebbero farlo, sì, con l'ennesimo momento di capitale, ma questi sono ragionamenti di alta finanza, non è così semplice come noi siamo uomini della strada, rispetto a questo tipo di discorsi evidentemente non ritengono necessario o utile o vantaggioso in questo momento ricapitalizzare sulla Juventus, anche se forse da qui in avanti potrebbero dover intervenire, ma nei prossimi mesi. Per il momento la situazione è questa, la Juve farà fronte da sola alla sua situazione, naturalmente confidando nel fatto di fare punti in classifica e arriverà una bella occasione sabato, ragazzi, perché c'è il derby intermino. Se batti la Lazio, prendi punti su tutte e due, se pareggiano nel derby, le prendi su di una, se una delle due vince sull'altra nel derby intermino. È chiaro che la Juve è obbligata a vincere di fronte ad un pubblico che dovrebbe ritrovare la curva sub. Mi è arrivato un comunicato in questo senso e quindi vediamo, vediamo se cambieranno le cose. Sarebbe molto bello, secondo me, vedere e sentire uno stadio organizzato. Iscrivetevi al canale e ci vediamo naturalmente domani. Perdonate ancora per l'ora.